Meno bello perché è meno fruibile, perché sarebbe un lungomare da sogno la bandita, subito prima di Villa Abate. I miei genitori si sono conosciuti in uno stabilimento belneare che 40 anni fa stava là. Oggi lì non ti puoi avvicinare al mare perché ci sono le zanzare più grosse di me. Ti deve andare bene che ci sono soltanto le zanzare.